Ne approfitto per ringraziare lo staff medico e tutte le persone che mi sono state vicine in questi 28 giorni e credo che siamo riusciti a fare un grandissimo recupero, quasi inaspettato perché la lesione era abbastanza importante, quindi va dato merito a chi ha lavorato con me, dove ha lavorato con massima professionalità e massimo impegno, quindi li ringrazio. Al di là degli interpreti ci sono delle giocate codificate e poi va dato merito e va dato atto anche agli attaccanti e ai centrocampisti che svolgono un ruolo importante anche in fase di non possesso dove ci danno una grandissima mano. Bisogna migliorare perché si può ancora migliorare tanto, però stiamo rispondendo bene ai messaggi del mister e credo che tatticamente dietro abbiamo un'inquadratura abbastanza definita. Io sono un giocatore come gli altri, è normale che l'età è diversa e l'esperienza è un po' diversa, però credo che più che avere Bellucci squadra o altri giocatori esperti, credo che sia l'infa vitale avere giocatori come Lagumina, come Monachello, come Accardi, come Fiordilino e tanti altri giocatori giovani che ci permettono di alzare l'asticella dell'allenamento durante la settimana creando grandissima concorrenza e quindi di conseguenza riusciamo ad allenarci al 100%. Il gruppo, onestamente ti dico, inizialmente appena arrivato qualcuno non ne aveva parlato benissimo e invece appena arrivato ho sentito un'atmosfera abbastanza familiare. Non ho avuto nessun problema con i compagni, sono tutti bravissime persone al di là dell'aspetto calcistico e quindi sin da subito c'è stata alchimia ma con tutto il gruppo, non solo con me ed è innegabile che grazie ai risultati e grazie al lavoro si sta consolidando ancora di più. A oggi il 70-80% delle partite si sbloccano su pallina attiva credo che noi siamo al di sotto della media per gol subiti su pallina attiva, si deve migliorare anche lì però non credo che deve essere un campelino d'allarme o un problema principale perché forse abbiamo preso due gol sul pallina attiva se non sbaglio quindi certo che è più bello non prendere mai gol però due gol sul pallina attiva in tutte queste partite credo che ci possa stare. Oggi dobbiamo essere consapevoli della difficoltà del campionato di Serie B perché è un campionato molto difficile, a tratti più difficile della Serie A sicuramente su alcuni aspetti. Io credo che oggi dopo le partite che abbiamo affrontato da persone intelligenti quali siamo e da giocatori intelligenti quali siamo dobbiamo capire che tipo di campionato il Palermo deve fare ogni qualvolta noi incosciamente abbiamo abbassato l'asticella dell'attenzione abbiamo abbassato la cattiveria agonistica, la determinazione abbiamo sempre rischiato di perdere il risultato abbiamo sempre rischiato di prendere gol e quindi di inclinare una partita però oggi dopo tutte queste partite credo che anche chi non conosce la Serie B oggi la conosce quindi dal mio punto di vista non si può sbagliare più l'atteggiamento siamo l'unica squadra che ha perso una partita e per mantenere questo primato e mantenere questo posto dobbiamo cercare di perdere meno partite possibili ma sempre con l'intelligenza e la consapevolezza che parlavo prima adesso abbiamo capito qual è il campionato e bisogna essere forti di questa conoscenza e non abbandonarla mai perché qualora l'abbandonassimo si può tornare indietro sinceramente dei torti arbitrali e delle altre squadre non neanche mi interessa neanche lo sapevo, dato che mi dici tu alla fine io credo che alla lunga i valori vengono fuori un paio di campionati li ho fatti una partita meriti di vincere la perdi una partita non meriti di vincere la vinci però ti posso garantire che durante l'arco del campionato alla fine ogni squadra ha i punti che merita e quindi le chiacchiere stanno a zero conta il lavoro e conta l'atteggiamento e conta la determinazione poi tutto il resto è fuffa, passatemi il termine al di là di tutto provocazioni noi, provocazioni loro il calcio è anche questo soprattutto nel campionato italiano e soprattutto nella Serie B italiana siamo stati bravi a non cadere in nessun tipo di giochetto dobbiamo continuare a fare questo noi dobbiamo continuare a lavorare e a migliorare perché possiamo ancora migliorare e pensare alla nostra partita, pensare al nostro gioco e essere concentrati su quello che dobbiamo fare noi e cercare di non perdere energie su altre questioni che non ci devono interessare la partita dentro ha tante sfaccettature a volte hai il dominio, a volte lo perdi cinque minuti spingi forte perché hai supremazia territoriale e poi la perdi e quindi dentro la partita ci sono tanti momenti è una gara delicatissima perché io ho seguito un po' il Cittadella, è una squadra importante al di là dei nomi che ha è una squadra pericolosa dove hanno tante giocate prestabilite dove si vede la mano dell'allenatore che provano tantissimo e noi dobbiamo cercare di limitare al meglio queste giocate e poi proporre viceversa le nostre giocate dove il mister ci lavora spesso durante la settimana ma personalmente mi dispiace e lunedì sera ero anche a San Siro a vedere la partita ha perso una nazione, ha perso tutte le persone, tutti gli italiani ed è... fa male ed è brutto però deve scivolare via al più presto possibile perché poi ognuno di noi torna alla vita quotidiana la vita giornaliera quindi dispiace per l'Italia intera dispiace per i compagni che purtroppo non potranno giocare questo mondiale però credo fortemente che dalle situazioni più negative a volte si riparte e nasceranno nuove sensazioni e nuovi giochi e nuove posizioni super positive quindi a volte per ripartire c'è bisogno di una brutta stangata che ti fa riflettere e ti fa ripartire meglio di prima servirà tempo perché comunque adesso si chiude un ciclo però credo che nel territorio nazionale ci sono tantissimi giocatori anche giovani molto promettenti e credo che la nazionale in futuro ritornerà a essere la nazionale che è sempre stata Grazie a tutti Grazie a tutti